grazie a tutti grazie seba si io come introduzione sarò molto breve sono un system integrator per cui non sono strettamente legato all'intelligenza artificiale il mio lavoro principale fra l'elettronica e l'informatica però come passione ho l'intelligenza artificiale nel cassetto già da un po di tempo ho fatto diversi tentativi in diversi momenti in cui l'intelligenza artificiale ha avuto dei boom si parte dagli anni 90 in cui eravamo veramente all'inizio ed era un poco più dei che dei chat bot fino ad arrivare a adesso dove l'intelligenza artificiale ha avuto un boom talmente elevato che praticamente ne se ne parla tutti se ne parla anche in posti dove normalmente dell'informatica non l'informatica non arriva uno dei problemi che ha l'intelligenza artificiale secondo me è che comunque è tratta un sacco di nostri dati viene e vengono trattati con moltissima leggerezza vengono trattati con molta leggerezza i dati che noi mettiamo dentro le domande che noi facciamo all'intelligenza artificiale e vengono trattati con leggerezza anche i dati con cui sono state formate l'intelligenza artificiale almeno visto che non ci sono dati certi su come siano stati fatti crawler con cui vengono fiddate le intelligenze artificiali il fatto che ci sia questa opacità mi dà adito di pensare che in realtà non sia stato sempre fatto tutto nel migliore interesse di chi quei dati li possedeva comunque a parte flame su quello che è quello che vengono fatti da dei servizi online la mia proposta è quella di fare la nostra la nostra sistema di intelligenza artificiale in casa per cui vi dico un po come l'ho fatto io da dove l'ho approcciato appassato di eme di elettronica ok questo qui l'ho già detto ok tutto quello che vi dico in realtà non sarà non le best practice per fare un laboratorio io mi considero un praticante dell'intelligenza artificiale per cui vi dico come l'ho fatta io dove ho avuto le difficoltà e come le ho risolte però ovviamente non prendetela come una consulenza professionale perché di fatto non lo è dicevo che quello che mi ha fatto partire con il progetto di intelligenza artificiale in locale è il discorso della privacy penso che i dati che io metto all'interno dell'intelligenza artificiale vorrei che rimanessero nascosti qualunque domanda io faccio magari sto chiedendo del codice per il mio lavoro sto chiedendo dei consigli su cose che non ho capito non vorrei che un domani un data leak esponesse tutte le domande con il nome dell'utente tutte le domande che sono state fatte all'intelligenza artificiale tutti i documenti che sono stati caricati questa cosa qui avrebbe sicuramente risultati disastrosi l'infrastruttura non è una cosa facile nel caso dell'intelligenza artificiale perché comunque si parla di computer particolari non è una cosa che purtroppo può girare in un home lab come quello descritto prima però ci sono diversi compromessi poi uno sceglierà quello migliore io cercherò di offrire almeno due varianti quella per chi parte con poco budget e quella invece per chi vuole cercare di sperimentare almeno il 90 per cento di quello che l'intelligenza artificiale libera oggi propone quindi avrete sempre comunque una scelta c'è un discorso che ho già anticipato qui ed è il fatto che l'intelligenza artificiale ha avuto talmente tanto hype e sembra talmente tanto facile installarla che trovate in online centinaia di tutorial che ti dicono ti do il link clicca qui c'è un installer farà tutto quanto da solo semplicemente poi devi dargli permessi di amministratore lui si scarica uno script da un github che lancerà tutto quanto e nessuno verifica questo script che cosa ci sia comunque uno scrive su github può cambiare in ogni momento per cui c'è anche secondo me è un discorso di leggerezza con cui questi sistemi entrano perché hanno un enorme attrattiva perché ci promettono cose cose mirabolanti per cui diciamo la tentazione è forte spesso chi non è competente semplicemente si fida del tutorial che non tratta minimamente l'aspetto della sicurezza ma tratta solamente fate clic qui otterrai questo risultato non è infrequente che invece poi computer si imputtanino quando si da sempre accesso con diritto amministrativo a software che viene scaricato senza controllo ok cloud locale vabbè ovviamente l'intelligenza artificiale richiede dicevo computer potenti in questo momento sono schede grafiche fondamentalmente non mi addentro in quello che sono schede grafiche sistemi specifici perché non ho mai avuto accesso a quelli lì il massimo che posso aver avuto accesso sono le schede grafiche per cui mi fermo lì non non è fattibile con i computer con la sola cpu o meglio è fattibile pochissime cose vi stufereste subito sarebbero lentissime quindi io cercherò di fare non tutto quello che è possibile ma tutto quello che secondo me ha senso provare la potenza di calcolo quindi necessaria non è quella a disposizione di tutti ma bisogna un minimo attrezzarsi diciamo che per me la cosa più importante di tutto questo di questo discorso sarà il fatto che tutto quello che noi facciamo rimane sotto il nostro controllo per la privacy e questo ci rende molto più liberi magari avremo meno potenza di elaborazione ci sarà meno comprensione del testo però almeno sarà la nostra e quindi questo qui secondo me è un enorme valore c'è fra l'altro un enorme velocità di crescita di questi modelli ogni settimana ci sono dei modelli nuovi non tutti quanti sono dei degli avanzamenti enormi ma comunque c'è un avanzamento costante e nei mesi si vede decisamente da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi per cui mettersi sulla strada dell'intelligenza artificiale con modelli open source sicuramente nel tempo ci porterà ad aver già preso dimestichezza con questi modelli e ad avere anche software di buona qualità allora io per la generazione delle immagini consiglierei stable diffusion io vi dico questo qui è un talker dove semplifico molto le cose in realtà spesso come succede nei tutorial si confonde il front end con quello che in realtà è il motore sotto viene visto con un unico pacchetto quindi siccome si chiama tutto l'insieme con il semplice nome del front end tengo in più questa semplificazione perché comunque per chi è all'inizio cercando il front end comunque trova tutte quante le informazioni anche su quello che è il sistema di back end se lo facessimo a strati il talk sarebbe molto più lungo per la generazione delle immagini il sistema più diffuso è quello di stable diffusion per la generazione del testo si usano come chat bot uba buga non sono gli unici però sono quelli che stanno andando per la maggiore esiste anche un sistema molto interessante per la trascrizione che si chiama whisper è un sistema per la generazione del parlato che si chiama tortoise questo è qualche esempio di immagine degenerate con stable diffusion questo qualche altro esempio e qui avete anche capito di solito perché cosa si usa stable diffusion poi se volete giocare con l'intelligenza artificiale quindi che cosa ci serve il processore come dicevo non è molto importante c'è un solo c'è solamente un limite delle del numero di lane che tutto quanto scambio fra hard disk scheda madre hard disk ram e scheda video per cui la velocità con cui questi dati si possono scambiare l'interno del computer fa sì che tutte le generazioni vengono in maniera più veloce partiamo il processore non è molto veloce perché non viene praticamente mai chiamato in causa se non nella gestione degli spostamenti fra la ram e la scheda video per cui si può partire con qualunque processore l'importante che la scheda video sia una nvidia e ci sono alternative ma sono tutte quante molto più complesse confronto all'invidia l'invidia praticamente a un in questo momento il supporto di ma della comunità maggiore di sviluppatori anche gli apple incominciano ad avere comunque delle loro installazioni ma sono sempre prima installa il sistema dell'invidia poi vai a customizzarlo perché poi attiviamo l'hardware specifico apple quindi se non avete già un computer con hardware apple in casa partirei con invidia 500 500 giga di spazio sono in realtà per i modelli in realtà il software pesa pochi mega ma ogni volta che voi scaricate un modello che poi sarà in grado di generare questi modelli pesano mediamente 8 10 giga ogni volta e il bello è proprio testare diversi modelli per cui a botte di 10 giga alla volta in un pomeriggio se la vostra internet tiene vi siete riempiti il disco questo diciamo che è il setup base la 30 60 ve la consiglio perché ha molta ram video i modelli quando vengono caricati devono girare completamente nella ram video più il modello è complesso più ram video richiede non c'è un limite massimo di ram video ci sono dei modelli liberi che in realtà non girano praticamente in nessuna scheda che acquistabile in questo momento talmente sono potenti però sono modelli liberi che a disposizione hardware particolare magari riesce anche a farli girare il modello minimo comunque gira su una 30 60 e da lì poi si va in su sweet spot è intorno ai 24 giga e sono quelle di fascia alta quindi sono le 30 90 40 90 o la serie workstation come le a 5000 e quindi questo computer qui la scheda video 360 costa in questo momento all'incirca 300 euro probabilmente è l'unica cosa che vi serve comprare e aggiungere al vostro computer se già non l'avete se invece volete fare qualcosa con la stessa potenza del computer che state provando in questo momento di sopra computer di sopra a 16 core e 64 giga di ram due schede a 5000 da 24 giga e due tera di spazio su disco nvme quindi per avere per avere anche un raffronto quel computer lì all'incirca in questo momento costerebbe 5000 euro comprando i pezzi a mercato in questo momento ma oscillano tantissimo qualche mese fa quando ho comprato le schede video l'ho comprate a 1200 euro l'una un mese dopo erano più di 2000 euro quindi è stato il miglior investimento della mia vita il prezzo della 5000 vi dicevo 1200 anche la 3090 all'incirca gira sui 1500 euro e 1500 euro anche per la 4090 non c'è un'enorme differenza da una all'altra in grosso modo si comportano tutte quante alla stessa maniera se non fosse che a parte la serie 5000 tutte le altre consumano tantissimo consumano tantissimo vuol dire che siamo intorno ai 400 watt per ogni scheda quindi alimentatore più potente maggiore calore da dissipare per una cosa che poi probabilmente lavora per lungo periodo può essere anche un problema tenere acceso un computer che consuma 500 watt intanto che lavora le A5000 girano sui 230 watt in full load e non ci arrivano mai per cui se pensate di fare qualcosa che deve lavorare in continuazione meglio la A5000 piuttosto che la serie da gaming tanto la serie da gaming comunque a parte il gaming che non sfruttiamo la parte che andiamo a sfruttare noi invece sono praticamente paragonabili alle A5000 anche se è la serie più vecchia la A5000 si colloca nella fascia delle 3000 la A4009 non è molto meglio della A5000 disco NVMe è sempre per il discorso di prima vi dicevo che dobbiamo caricare dei modelli da 8 giga in RAM ovviamente se il disco è più veloce tutto questo è molto più fluido impensabile farlo su dischi meccanici software in questo caso Linux e Windows si equivalgono se siamo visto che questo qui è un discorso partendo dalle basi se dobbiamo usare degli installer one click e ce ne sono anche di buoni ovviamente se io sto guardando un video che ha 200 visualizzazioni è uscito da tre mesi e mi punta in un repository di GitHub con una sola stellina con il one click installer io non lo clicco quello lì però se trovo un video con un milione di visualizzazioni magari fatto da uno che è anni che parla di queste cose qui e punta ad un repository con un one click installer con 200.000 stelline magari quello lì mi posso più fidare che qualcuno l'abbia già guardato e possa funzionare bene poi se sono paranoico magari mi guardo anch'io cosa dice lo script però comunque ci sono one click installer per Windows, Linux e Apple e il one click installer richiede sempre i privilegi di root perché comunque deve andare a cambiare dei driver per la nostra scheda video e tutto è talmente custom che ogni libreria deve essere esattamente di quella versione lì per cui se iniziate a provare diversi sistemi dove ciascuno richiede la propria libreria probabilmente un sistema andrà in conflitto con l'altro e si romperanno entrambi quindi uno non riuscirà a completare la sua installazione perché troverà un conflitto con quello che già c'era provate a lanciare quello vecchio e non funzionerà più perché qualcosa comunque gli è stato cambiato sotto i piedi andate piano, non siate veloci nell'installazione e possibilmente fatelo su macchine sempre pulite se usate Linux la 20.04 è ancora pienamente supportata probabilmente è quella migliore su cui partire non c'è bisogno assolutamente di essere con le ultime versioni anzi tipicamente tutto quello che è di ultima versione come ad esempio Python 3.11 funziona male bisogna stare qualche passo indietro perché comunque non è tutto quanto così veloce a muoversi nell'installazione l'autorizzazione, ecco vi dicevo che quando usate il one click sicuramente devi installare quindi assicuratevi di quello che dice di quello che vuole fare nel vostro sistema possibili utilizzi ok, se vi siete installati questi software e volete sapere un po' come li uso io con profitto nel senso che fisicamente mi sono utili e soprattutto anche nel lavoro in qualche caso mi hanno aiutato parecchio è possibile molto facilmente utilizzando il sistema di traduzione da testo da voce a testo avere il trascritto di una conferenza quindi se voi vi registrate con l'accordo ovviamente di tutti i partecipanti vi registrate una conference call di lavoro poi potete darlo in pasto a Whisper e lui vi crea i sottotitoli per tutta quanta quella conferenza mettendo anche i riferimenti temporali di chi ha detto che cosa in realtà il chi ha detto che cosa è un add-on che si aggiunge a Whisper e permette la diarization per cui riesce a capire in base alla voce una persona piuttosto che l'altra e quindi non solo ti dice che cosa è stato detto ma anche da chi è stato detto persona 1, 2, 3 non funziona benissimo però è un ottimo inizio già comunque è molto utile il fatto di avere una trascrizione che potete mettere in un software io l'uso in un sito web dove c'è il video e trascrizione nella trascrizione io faccio una ricerca testuale delle parole arrivando alla linea dove c'è quella frase clicco il video si sposta nel momento temporale in cui c'è quella frase lì parte il play e quindi sento quello che è stato detto come contesto a quella frase lì perché ovviamente la trascrizione potrebbe non essere perfetta e si potrebbe fraintendere però già se mi riporti al momento in cui si parla di quella cosa io poi capisco che decisione era stata presa questo qui lo posso fare perché è tutta l'elaborazione che avviene all'interno del mio computer per cui nessun dato privato viene portato fuori ed è un grosso valore aggiunto secondo me che chiunque di noi potrebbe fare generazione di immagini per proof of concept questa cosa qui viene utilizzata moltissimo e ho degli amici che hanno fatto da poco una presentazione un attimo che guardo se c'è Lamberto qui fra di voi no? ok ok il computer che noi abbiamo qui è stato portato alla fiera del fumetto e alla fiera del fumetto è stato dimostrato come è possibile addestrare lo stile di alcuni fumettisti in una rete in un sistema che poi permette tramite i prompt di ricreare i fondali con lo stesso stile per cui i fumettisti potrebbero semplificarsi il lavoro di creazione dei fondali semplicemente addestrando in poche ore una rete con il loro stile è stato presentato e i fumettisti erano entusiasti di questa cosa quindi in realtà anzi in realtà mi è stato detto che uno dei più anziani era il più entusiasta di tutti e ha detto io quella cosa lì la voglio per cui in realtà non c'è tutta questa paura dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli artisti sicuramente alcuni ci sono ma io penso che in realtà non sarà l'intelligenza artificiale a portarci via il lavoro ma sarà qualcuno che ha imparato a usare l'intelligenza artificiale a portarci via il lavoro se noi non impariamo ad utilizzare l'intelligenza artificiale domande? una domanda proprio sul titolo io sono da quando è uscito il termine intelligenza artificiale che contesta in tutti i modi possibili il termine perché è un insieme di algoritmi per quanto vuoi raffinati ma sono algoritmi io ho scritto algoritmi per tutta una vita non vedo perché mi devono chiamare un algoritmo intelligenza lo trovo offensivo tu hai sai spiegarmi hai un motivo per cui hanno chiamato questo insieme di algoritmi per quanto raffinati intelligenza giornalismo secondo me è stato fondato dai giornalisti perché è molto più interessante e catchy usare il termine intelligenza sarebbe machine learning inizialmente chiamavamo le cose con altri nomi la mia azienda si chiama Perceptron Network che era i primi nomi con cui venivano chiamate le reti neurali poi tutte queste terminologie si è evoluta si è persa si sono persi semplicemente si è evoluta comunque concettualmente il termine AI è solamente una questione di capirsi con una buona approssimazione però anch'io sono convinto che non sia il modo corretto fra l'altro tendiamo anche ad umanizzare moltissimo l'intelligenza artificiale soprattutto quella testuale gli diamo del lei impariamo a trattarla come una persona e ci rivolgiamo a lei anche con come ci si rivolgerebbe a una persona che è funzionale in qualche caso perché comunque è stata addestrata con il testo delle persone per cui lei capi lei appunto dicevo vedi come prichi la cosa il sistema capisce meglio se utilizziamo certe parole però se è funzionale ok ma poi iniziamo ad umanizzarla e chiamarla lei lui e la cosa un po' si sfuma e secondo me devia anche un po' dovremmo veramente pensare che in realtà sono sistemi di approssimazione delle informazioni e mediazione delle informazioni io chiuso e dico che in contesti come questi dovremmo essere fare il massimo di chiarezza e chiamare le cose con il loro nome e mettere termine intelligenza artificiale tra virgolette ecco quello che vuoi non dobbiamo avvallare questa terminologia perché nel pubblico normale è fuorviante io lo trovo diseducativo lo trovo uso un termine forte criminale l'usare il termine intelligenza per una serie di algoritmi che sono machine learning sono pienamente d'accordo sono colpevole ma lo ammetto non è finto lo so ci ho pensato ho detto almeno aggiungo livello base perché dovrò mediare cercherò di metterla come anteprima effettivamente qui siamo molti di noi sono tecnici non tutti ma molti di noi sono tecnici quindi molti di noi già queste cose qui le hanno viste su video magari le hanno anche provate questo qui diciamo che è beneficio un po' di quelli che sono un po' meno tecnici ma sono pienamente d'accordo su questo qui anzi sinceramente abbiamo fatto anche un tavolo qualche sera fa proprio su tutti i discorsi legati all'intelligenza all'intelligenza artificiale e alla moralità che ci deve essere tutte le criticità che ci sono in questo momento l'explainability la principale probabilmente e quindi in realtà sono dispostissimo anche a fare discorsi più approfonditi su quello che sono le vere criticità sia interni alla comunità sia esterne esterno magari quello che hai detto tu è interno alla comunità quello che invece dobbiamo iniziare noi a pensare di chiedere ai modelli perché non possiamo sempre usare delle black box grazie ti passo una domanda diciamo di veggenza nel futuro a cui non hai detto che saprei rispondermi aspetta che prendo la palla esatto con la nascita di tutti i progetti come tipo whisper cpp lama cpp e data set ottimizzati per essere ridotti se secondo te arriveremo nel giro di pochi anni ad avere la possibilità di far girare modelli molto capaci anche su dispositivi mobile perché ho spesso letto che molti dicono che si ha la chiave per certi casi io ci credo in parte però ne so fin tanto che è la magari tu hai un'opinione un pochino più fondata rispetto alla mia allora risposta breve assolutamente sì quando è uscito sono usciti nel tempo dell'hardware specializzato ad esempio la google coral è una penina usb 3 che scalda un botto che è un forno però ti permette di caricare dei modelli ultra leggeri fatti apposta per lei ed avere inferenza ad altissima velocità sulle immagini per cui un raspberry 4 che non ha particolari competenze particolare hardware sul trattamento delle immagini con la sua telecamera il modello 2 quindi diciamo quella a 5 megapixel riesce comunque ad avere un object detect intorno ai 20 frame al secondo utilizzando il coral come dispositivo poi ci sono tutti quelli che sono gli edge device quindi tutta la serie delle nvidia tipo il jetson nano questi qui che hanno moltissimi cu da core all'interno supporta molte telecamere e tutto quanto roba per computer vision no in realtà penso che ci sia anche qualcosa per il riconoscimento del parlato però comunque sì c'è tutta una branca per tutto quello che è il mobile e nei nuovi processori incominciano già a mettere delle zone dove ci sono dei hardware specifico per fare calcolo matriciale e sicuramente nei telefoni ci finiranno questi modelli e sì decisamente c'è c'è margine per questo per questa cosa qui in futuro mi aspetto assolutamente di vederlo volevo cogliere la provocazione riguardo il termine intelligenza artificiale che secondo me il termine è perfettamente adeguato nel senso è chiaramente ed è banalmente verificabile che questi strumenti sono capaci di reasoning quindi come dovremmo chiamare questa cosa se non l'intelligenza c'è cos'è l'intelligenza perché a me sembra ormai come dire scientificamente approvato che sono capaci di reasoning e che si tratta di intelligenza quindi secondo me il termine è adeguato non sono d'accordo possiamo illuderci che non lo faccia però chiaramente lo fa allora io non credo che sia ragionamento però comunque qui è anche un tema molto di quello che è definito come intelligenza quindi si va anche spesso quando si vuole veramente approfondire si esce dal discorso tecnico e si entra più in quello filosofico anzi secondo me ci starebbe proprio che iniziassimo a parlarne anche con dei filosofi di quello che in realtà vogliamo intendere come intelligenza non è che voglio rimbalzare l'autodomanda è che è proprio la definizione del termine intelligenza che è un po' sfumata secondo me non è intelligente non dimostra di fare ragionamento e so che l'hardware che è qui non ha il massimo della potenza però è palese che comunque ha un sacco di fallace ed è facile anche mettere in fallo GPT4 che è il modello migliore che abbiamo in questo momento no secondo me invece non ha dimostrato di essere intelligente o logico però se ne può parlare su quello che vogliamo intendere come intelligente e logico sì allora leggendo il titolo del talk intelligenza artificiale generativa offline mi viene da associare anche una questione che negli ultimi mesi è stata abbastanza calda che è quella del diritto d'autore soprattutto per quanto riguarda la generazione di immagini c'è stato un famoso caso che ha reso famoso anche Migiorni che è praticamente un concorso diciamo d'arte è stato vinto da una famosa immagine generata appunto con Migiorni e su questa immagine non c'è il diritto d'autore da parte dell'artista finale e voglio sapere cosa ne pensassi tu anche perché mi viene da pensare che se l'immagine è generata offline e mi rimane interna la sento ancora di più mia e di mia proprietà e quindi di avere i miei diritti io sono estremamente combattuto in questo perché mi alterno dal considerare il modello quindi il modello utilizzato tendo a considerarlo in realtà un sistema di compressione delle immagini con perdita per cui considerando che il modello in realtà potrebbe essere un compressione con perdita di immagini di altre persone in realtà lì dentro non c'è nulla che appartenga a me è semplicemente che io sto tirando fuori male cose fatte da altri questo è un approccio non è non sono l'unica a pensarla così è un modo un po' estremo però secondo me è dignitoso anche parlare di questo modo dove in realtà non è il modello chi ha generato le immagini conserva ancora qualche cosa qualche diritto su di esse però ti dico che la comunità generalmente e soprattutto i grossi aziende che hanno investito soldi su questo qui tendono a considerare come tu hai usato un modello e il prompt è tuo quindi la parte il tuo contributo è sostanziale nella generazione dell'opera finale per cui hai il diritto di dire il risultato finale è mio perché ho contribuito in maniera sostanziale e tutto quello che c'è sotto è semplicemente tecnica e tecnicismi per cui io penso che in realtà non sia corretto però ti dico che la maggior parte in questo momento la pensa così e spesso le risposte ufficiali sono queste qui fra l'altro Adobe nel sistema Firefly dove ti permette di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per correggere le immagini ti dice anche se quello che viene generato dal nostro sistema in qualche caso ti venisse contestato dai legali noi ti forniamo supporto legale per la causa quindi visto che il tema è talmente tanto dibattuto che rischiavano che il loro prodotto di intelligenza artificiale generativa non fosse utilizzato dai professionisti perché la paura di essere poi citati in causa da uno sconosciuto di cui loro ovviamente non avevano nessuna informazione perché nessuno di noi sa con che cosa è stato trainato era qualcosa che li bloccava e Adobe ha addirittura fatto il passo avanti e dire in futuro qualunque cosa succederà ti copriamo noi è una cosa molto forte non è mai successo nella storia del software che anzi di solito dico sono affari tuoi se succede qualcosa quindi il tema è molto dibattuto e lo stanno approcciando in diversi modi prego grazie per la tua presentazione solo una curiosità se nella realizzazione dell'hardware avevi quanto meno considerato come ipotesi avevi studiato la possibilità di impiegare i chip dedicati di Nvidia come l'Hopper visto che adesso è uscito una nuova generazione mi sarebbe piaciuto ma in realtà non si riesce a comprare nulla in questo momento si vede che Elon Musk ne ha comprati talmente tanti che stanno ancora producendo i suoi in questo momento anche comprare una A6000 io sono in lista d'attesa per essere ricontattato sì le faremo sapere quante ne vuole una un bancale no una sì le faremo sapere in questo momento non si riesce a comprare praticamente nulla di quello che ha pubblicizzato va tutto quanto nelle big company c'è anche fra l'altro un discorso con la Cina che non gli si può vendere hardware troppo potente ma ho saputo che in realtà c'è comunque un modo per cui anche loro comprino e vi potete solamente immaginare quanto loro possono assorbire della produzione di questi chip qui quindi in questo momento purtroppo probabilmente l'unico hardware disponibile è quello da gaming o quello usato di chi lo smette per l'Italia almeno quindi non ci sono alternative di fatto magari una cosa che posso aggiungere è che anch'io ho sbagliato a prendere l'hardware ho messo due schede video utilizzando un processore consumer che quindi ha solamente 20 PCI lane per cui le mie due schede video che sarebbero 16x non possono andare a 16x ma vanno a 4x col senno di poi magari avrei dovuto comprare uno Xeon o comunque un processore con più lane in modo da sfruttare al massimo le schede video è comunque un compromesso valutate voi se la build che testerete può valere 5000 euro comunque sappiate io vi do qualunque informazione volete se volete vederla è qui per per aiutare anche voi a comprendere un po' che cosa si può fare ok bene allora grazie Davide per aver condiviso la tua esperienza e conoscenza qui all'EnsummerCamp 2023 Davide Camminati l'EnsummerCamp l'EnsummerCamp